La prima cosa ci abbiamo fatto, adesso vediamo. Ora vediamo. Sì ma non sono sicuramente la banca ma non è vero sennò che con la sua capacità non è vero c'è sicuramente la DT3 ma non è vero 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 io ins lager e poi si dovete rückwärts senza sicht non si dovete andare e poi dovete andare e poi dovete andare e poi dovete andare se vediamo che se la stessa e poi ciò credo che è stato e poi dovete andare e poi dovete andare ... ... ... ... C'è un po' di più, non è un po' di più, non è un po' di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.